Ciao ragazzi e benvenuti nel canale. Allora in questo video vorrei parlare della preparazione alle cove, quindi tutto ciò che c'è da sapere e da fare affinché i nostri esemplari possano iniziare il loro periodo riproduttivo al meglio. Allora in primo luogo dobbiamo assicurarci che l'alimentazione sia ottimale, ovvero fornire anche un po' più di grassi alla dieta, quindi un surplus di semi di girasole e le mancabili verdure e frutta di stagione. Ecco come possiamo vedere questi sono i primi 4 piccolini che mi sono nati e questi esemplari in voliera. Come vedete gli ho dato delle foglie dei rami di eucaliptus così che loro possano utilizzarli per riempirsi il nido. Questo oltre ad essere un momento di svago dalla classica routine della voliera consente ai nostri esemplari di passare il tempo quindi anche a creare dei legami tra i vari esemplari. Ovviamente se mi riferisco al caso la persona ha solamente una coppia in una gabbia e gli esemplari non saranno stimolati al meglio. Questo infatti è una cosa che sconsiglio sempre, oltre al fatto che io personalmente prediligo l'allevamento in voliera in coloni. Un'altra cosa importante è quella del posizionamento dei nidi e del numero dei nidi, quindi è bene posizionare i nidi in punti diversi e almeno il doppio delle coppie in numero, ovvero se abbiamo 5 coppie metteremo 10 nidi in posizioni diverse e così daremo la possibilità ai nostri soggetti di scegliere quello che più preferiscono. Quindi se vogliono scegliere un nido piuttosto che un altro lo potranno fare liberamente senza essere forzati in alcun modo. Ok ragazzi per questo video è tutto, iscrivetevi al canale se avete domande fatemele pure nei commenti e ci vediamo alle prossime. Grazie Grazie Grazie